Adesso sì che si comincia a fare sul serio, domani infatti alle 9.30 a Comiso è previsto il primo atterraggio di un aereo maltese, a bordo una cinquantina di turisti. Dopo circa un'ora il velivolo ripartirà per Malta con a bordo lo stesso numero di ragusani, i turisti rimasti invece si fermeranno nel nostro territorio fino a domenica, quando poi rientreranno a casa. A questi primi due voli ne dovrebbero seguire presto altri, per cui l'estate dovrebbe essere coperta con almeno tre voli a settimana. Per vedere invece atterrare il primo aereo Ryanair bisognerà aspettare agosto e che comincerà con la tratta per Roma-Ciampino, in questo caso si parla di sei voli a settimana. Poi settembre, quando scatteranno i voli internazionali Comiso-Bruxelles e Comiso-Londra, nel mezzo spazio anche per i collegamenti con la Tunisia, grazie alla Tunisair, compagnia di bandiera tunisina, che si è subito interessata a questi collegamenti grazie all'intervento diretto del presente alla regione Crocetta. Poi c'è anche la questione aperta dell'inserimento del magliocco nel piano nazionale degli aeroporti. Lo scalo ibleo dovrà però dimostrare di avere i numeri in termini di passeggeri e in questo modo potrà ambire a questo inserimento, ma è ancora presto per fare una stima di numeri appunto per cui bisognerà attendere almeno settembre-novembre. A fine mese allo stesso tempo dovrebbe riunirsi l'Assemblea dei Socii di Soaco per rinnovare i vertici dirigenziali. Al momento quelle attuali sono, come è noto, il regime di proroga per cui il discorso verrà affrontato dopo la tornata delle amministrative. Grazie a tutti.